Un cancello posto dinanzi all'ingresso evita il passaggio nella galleria. Per questione di sicurezza non è possibile raggiungere le calette della scogliera di Ascea. La decisione è stata presa dall'ente parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni che sul costone sta eseguendo una serie di interventi di riqualificazione. I lavori rientrano in un progetto ben più ampio che porterà il prossimo 17 giugno all'inaugurazione del sentiero dell'amore. La cancellata posta all'ingresso della galleria non consente più di raggiungere uno degli angoli più suggestivi della costiera cilentana. In località scogliera di Ascea ci sono diverse gallerie che conducono alle affascinante cale sul versante posteriore del costone roccioso ravvisabile a prima vista. Ebbene l'imponente bocca della prima galleria che permette un percorso agevole e confortevole via terra alle calette è stata chiusa con l'imponente cancello perché è ritenuta pericolosa. Le cause sono precisate dal primo cittadino Pietro D'Angiolillo che tiene a ribadire. Si tratta di un costone roccioso non protetto con la possibilità di caduta massi che potrebbero mettere a repentaglio la vita dei tanti cittadini e dei turisti che vi si recano per ammirare le bellezze e non solo. Calette segrete, falesie difficili da raggiungere, grotte, un tempo riparo per le barche dei pescatori costituiscono gran fascino alla vista dei tanti visitatori che giungono ad Ascea. Il sindaco rassicura la comunità dichiarando che il parco ha presentato un progetto che monta circa 2 milioni di euro al fine di mettere in salvo il costone e la torre del telegrafo ad oggi in rovina. Già meta preferita di tante coppiette in cerca di tranquillità a giorni località scogliera avrà ufficialmente la sua passeggiata dell'amore. Intanto interventi di riqualificazione sono in corso anche sul lungomare cittadino dove è stato abbattuto un vecchio lido in cemento che da 50 anni occupava parte della passeggiata. Un traguardo storico, dice il sindaco, presto sarà realizzata una nuova struttura ecocompatibile. Sì, questo è davvero un risultato storico. Quello di togliere il cemento che si tuffava in mare, come dico io, è stato un momento davvero che la comunità in genere ha rincorso da tantissimi anni. Adesso ristrutturando quel lido sono state imposte delle prescrizioni per recuperare spazi, cioè la renile e il marciapiede ad uso pubblico, alla pubblica utilità. Quindi siamo molto soddisfatti anche perché il nuovo lido sarà davvero molto bello in legno e vetro e la passeggiata sarà fatta con vista mare. Al centro di Ascea, quindi come dire, il primo biglietto da visita. Ma bisogna creare sul territorio bellezza, bisogna creare attrattività perché oggi chi si mette in viaggio, il turista ovviamente vuole confort e vuole luoghi che siano anche luoghi dell'anima.